Il tiragraffi è un oggetto molto importante per i gatti perché come sappiamo hanno l'abitudine di farsi le unghie, un comportamento naturale molto importante per loro perché oltre a limarsi ad accorciare le unghie serve proprio per marcatura del territorio, infatti quando loro si fanno le unghie lasciano dei segni sia visivi che olfattivi con delle ghiandole che hanno la base delle unghie, per cui è un comportamento che non dobbiamo reprimere ma anzi dobbiamo assecondare. Ovviamente spesso i gatti si fanno le unghie su dei mobili o degli oggetti di casa e noi non vogliamo, per cui dobbiamo indirizzare questo comportamento su degli oggetti appositi che sono i tiragraffi. Esistono dei tiragraffi in cartone come ad esempio questo qua che il gatto utilizza più volte e poi pian piano consuma e dopo di che lo potete gettare via, oppure esistono dei tiragraffi in vari materiali come questo in sisal o in moquette fatti a colonnina, più piani, una sola colonnina e questo ovviamente ha una durata più lunga.